buona domenica a tutti da marcus ben ritrovati ieri esce il 47 a bari che era nelle previsioni con il 57 di bari quindi adesso il 47 viene scartato perché adesso lui è sortito guardate però curioso è curioso farvi vedere come ancora una volta il grafico lineare guardate come ci veniva incontro sempre col suo bel grafico guardate io avevo detto infatti guardate il 47 come si sta incastrando come dice anche roberto si sta incastrando galleggia quindi vedete che ha delle sortite piuttosto irregolari e quindi consoni con la statistica vedete che poi alla fine si livella si incastra continua a dare e dà l'esito quindi 47 ha dato ma scoppiamo un attimino le posizioni del 47 guardate che curioso quindi c'era la quinta la seconda guardate la terza lui dove è uscito guardate qui terza posizione quindi seconda quinta e terza il 47 è uscito in terza posizione comunque adesso noi i numeri che adesso ci interesseranno sono proprio il 40 il 45 il 48 e il 49 sono gli ultimi 4 nombi secchi da abbinare con il 57 di Bari ritorniamo col 40 guardate che differenza allora tra il 40 e il 47 ditemi se trovate una differenza 40 è questo qui il 47 era quello di ieri guardate il 40 e vi faccio rivedere il 47 di ieri capite perché sia importante capire anche il grafico di questo sistema perché quando si infittisce io ho sempre detto quando si infittisce che comincia a essere più regolare perché qua ha una dislocazione vedete va ma e non è non è proprio ripetitivo come in questo caso sta diventando ripetitivo il 47 è diventato ripetitivo costante lineare il 40 è ripetitivo costante lineare ma il 40 è richiamato anche da cosa vi ricordate cosa avevamo detto no il 90 lascia segno il 90 napoli e diametrale di Bari quindi o 4 40 qua o 4 40 vari il 40 è forte il 40 è forte guardate qui il 40 è forte quindi è possibile che possa arrivare con il 57 poi avevamo visto gli altri che sono 45 il 44 già uscito il 45 è quello prossimo probabile uscire il 46 abbiamo visto che è in ritardo quindi l'abbiamo lasciato stare e così è stato il 47 dato ieri rimane il 48 e il 49 guardate il 48 soglie di uscita e il 49 ci siamo allora adesso questi quattro abbinamenti sono e saranno quelli rimanenti più forti per concludersi in questa visuale che vi ho fatto vedere già sabato ieri quindi 45 49 48 date anche il 57 sono tutti date da ambatta contata quindi anche il 40 che non fa parte di ambatta contata ma è richiamato dal 90 lascia segno quindi è giusto applicare anche un ambo in più perché non si sa mai avete visto è uscito dopo Firenze guardate o due venti qua o due venti Roma guardate al primo colpo 20 Roma quindi adesso se il 90 è in quarta probabilmente 440 qui e 440 a Bari 440 a Napoli 440 a Bari quindi il 40 è il più indicato e vedrete che non si farà attendere quindi fra i migliori da abbinare con il 57 40 48 49 45 questa è una dell'utilizzazione per quello che si andrà a giocare martedì solo 4 ambi secchi e la cinquina Bari possibilmente anche nazionale tutte fate una cinquina magari su Bari nazionale e tutte gli ambi secchi su Bari mi raccomando almeno su Bari e se potete farli anche su nazionale meglio però ragazzi questa resta la previsione forte forte fortissima per martedì e eventualmente possiamo uscire per il resto della settimana perché siamo a tre colpi martedì e quindi vediamo se nei cinque colpi da penso proprio di sì perché c'è proprio la statistica forte col 57 noi andiamo a rivedere di nuovo per sicurezza poi anche il 57 abbiamo visto tutta la decina 40 guardate il 57 ritorniamo alle 600 estrazioni il 57 eccolo qua il 57 resta forte molto molto forte quindi sia dal grafico lineare sia da un battacontata vedrete che non si farà attendere poi abbiamo anche cadenza no somma x2 che lo chiama quindi somma x2 chiama il 57 basta vedere cosa era successo col 58 85 su Bari e su Milano guardate un attimino primo colpo niente 2 3 4 5 allora quinto colpo 85 sesto colpo niente settimo colpo niente ottavo colpo l'è arrivato 58 con 88 eccetera 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 l'85 guardate poi nono colpo di nuovo l'ottantacinque decimo colpo di nuovo l'ottantacinque capite quanto sia importante seguire un sistema e applicare poi il sistema di ricerca che gli si viene dato sempre con l'otto più più gold poi qua andando avanti abbiamo poi la previsione con il 57 Bari Milano guardate guardate martedì prossimo siamo a 7 colpi guardate non è successo ancora nulla e guardate qua c'è il 57 guardate bene guardate bene con combinazione le posizioni sono proprio la prima la terza la quarta e dove c'è sempre l'innesto fra il 50 e il 7 come è successo anche in precedenza con le altre previsioni abbiamo visto che dove si trovano i due elementi che creano la previsione probabilmente arrivano proprio dove c'è dove ci sono i due elementi quindi 57 prossimo posso uscire sia dato da somma x2 da varie altre tecniche sia da ambatta contata e poi sia dal grafico lineare che dice chiaramente nettamente la sua che il 57 è fortissimo su Bari guardate qui settimo colpo martedì non è uscito ancora nulla guardate non è uscito ancora nulla quindi propenso il 57 a uscire con la quarantina ok e infatti ieri ritorniamo all'estrazione di ieri esce il vertibile 75 nella figura 3 proprio con la quarantina guardate guardate come i numeri si agganciano se questo era un 57 ripeto era un terno perché c'era il 48 47 non il 42 un terno su tutte in sestina e non è tanto non sarebbe stato tanto ma insomma qualche recupero ci sarebbe stato e il 75 può diventare il 57 fate voi col col 40 45 48 49 rimanenti guardate che quello che vi faccio vedere è sempre veritiero le embate che vi do arrivano sempre con le decine indicate il 58 arrivato col 70 su cagliari il 58 arrivato col 19 purtroppo sulla nazionale e poi addirittura firenze qua c'era quasi un terno col 49 è uscito il 48 quindi la quarantina andrà a interagire con il 57 quindi avanti ancora su Bari tranquillamente da parte mia è tutto ci risentiamo alle prossime news anche domani ciao un buon resto di domenica a tutti ciao